ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di magic badge oggi su android per un grande ritorno di evertech sandbosch un gioco che non giochiamo da quasi due anni e che oggi riportiamo per vedere di continuare a costruirci proviamo costruire cose utili fastidio e vediamo di fare qualcosa di provare a costruire qualcosa perché non mi ricordo neanche più come si fa volevo costruire ha fatto un attimo un giro di sto mappa e faccio un mezzo ponte qualcosa per andare sullo servatorio lo su per andare sullo territorio lo su qui da un punto che ci fa anche vedere ok perfetta senza crescita ok sappiamo che si cade noi ci dobbiamo muovere quindi in questa direzione cosa possiamo costruire una metropolitana c'è tipo un treno qualcosa una funivia mezz'idea ce l'avevo costruiamoci qualcosa per muoverci qui intanto per poterci spostare come al solito facciamo un socchetto abbiamo la nostra base questo sarà un mezzo di trasporto aereo in un momento poi cercheremo di spostarci ora su questo io lo posso cavare a questo problema ok telecomando clicca ok e andiamo a morce per costruire questo per comando alziamo un po allora ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi invertirli. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 questo lo collegiamo qui, corriendo per l'amore ok, avanziamo un po questo qui questo ok 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 ora ho delle ruote per tornare indietro non ho un motore per tornare indietro e per tornare indietro dopo non è che uno stasso per via non ho controllo delle energie ok 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 come ok itelorte ok 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 ora vedremo fare il sistema Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Scegliono altri lettori, un po' cadetto qui, ci fa diventare per avere forze. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. Scegliono altri lettori. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. 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 Scegliono altri lettori. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. Scegliono altri lettori. Scegliono altri lettori. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. Scegliono altri lettori, un po' cadetto. Scegliono altri lettori. 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 un po' di riempire ok gotcha the old netto the 8 ok se mi ha volato il rover vedi qui a cantare a cascare in acqua ma perché deve cascare in acqua guarda che sono salvato ma la marca di quella oggi salvare ok 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 abbiamo detto che facciamo uno due e tre ok facciamo una qui andiamo un po' più giù perché facciamo lavorare qui mettiamo questo qui poi uno no uno due lo 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 ok chicho allo allo ok 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 Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Grazie a tutti. Ok. 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 Ok.